Lui dov'è? Non mi piace affatto che sia presente un estraneo mentre noi ce ne andiamo. Ecco tutto. È un uomo affascinante. Spero solo che non diventi uno dei tuoi disastri. Non vedeva l'ora di conoscerci. Lei sa molte cose di me. Io molto poco di lei, invece. La sua faccia non mi risulta affatto nuova. Può guardarmi un istante? A che gioco state giocando, lei è Denise? Si può sapere? Ma lei chi è? Le separazioni sono per chi ama con gli occhi. Chi ama col cuore. Non si separa mai. Cosa c'è? I vivi ti fanno tanta paura? Zombie! Tu potresti essere l'uomo che ho sempre cercato. Io sono per gli occhi. Qui è il tempo. Ozone te vuoi? Come anche.